Manuela Tessi lascia l'Arezzo calcio femminile. All'ormai ex tecnico Amaranto è arrivata l'offerta irrinunciabile da parte della Federcalcio di Trinidad e Tobago per lavorare con l'Under 17 a stretto contatto con Carolina Morace. Un'avventura che inizierà il prossimo 6 febbraio. Quello di Manuela Tessi non è però un addio, bensì un arrivederci al club Amaranto. Intanto lascio un gruppo splendido di ragazze che ho allenato, che ho cresciuto in questi cinque mesi, ma le lascio in eredità una grande allenatrice, quindi vado via molto serena sinceramente. E poi lascio una famiglia, mi hanno trattato fin dal primo giorno come se fossi a casa, questo grazie alla Presidente Tavanti e a tutti i collaboratori e anche alla città di Arezzo. È una città dove si vive benissimo, un gioiellino della Toscana. L'Arezzo calcio femminile ha già individuato chi sostituirà Manuela Tessi. Si tratta di Nazarena Grilli, ex calciatrice di Milan, Brescia, Roma e Lazio, originaria di città di Castello ed ex nazionale azzurra. Oggi tecnico che ha già alle spalle importanti titoli italiani raggiunti con il Fiamma Monza, ha lei il compito di proseguire il progetto tecnico avviato dal club di Chiara Tavanti. Ho visto un gruppo molto determinato che ha voglia di crescere e quindi penso che questa mia passione che ho per il calcio non mi faccia sentire nessun tipo di stanchezza. Quindi ci metterò tutte le mie forze per poter ripagare la fiducia che Chiara e comunque anche Manuela che comunque ha fatto il mio nome per proseguire questo percorso hanno creduto in me in sostanza. È importante oggi avere allenatori preparati che conoscono bene il calcio femminile perché una donna non è uguale all'uomo né sotto l'aspetto fisico né sotto l'aspetto mentale. Quindi bisogna sapere bene dove è che si va a lavorare. Io posso dire che le nostre ragazze hanno avuto una crescita incredibile. Stanno regalando un bellissimo gioco, diverte vederle giocare. Siamo sicuri che la scelta di Nazarena è stata veramente la scelta migliore. Abbiamo avuto fortuna in un momento così difficile della stagione a trovare lei e a convincerla soprattutto a venire a Rezzo, a sposare il nostro progetto anche perché comunque lei abitando a Milano farà avanti e indietro. Però mi piace perché è molto carica.